Musica Cari telespettatori inauguriamo quest'oggi un nuovo spazio dedicato all'informazione a cura del sindacato pensionati del Veneto SPI CGL Cercheremo di tenervi aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo dei pensionati, degli anziani con un'autosufficienza Insomma in generale avere un quadro di quel che succede e delle azioni che vengono intraprese Vediamo subito le prime notizie e parliamo di tagli al sociale Infatti sono quelli previsti al capitolo dei servizi sociosanitari del bilancio regionale Che rischiano peraltro di penalizzare i più deboli, i disabili e gli anziani in generale Ad una prima lettura del progetto di legge del bilancio regionale 2014 Balza all'occhio il ridimensionamento dei fondi per il sociale e per la non autosufficienza La proposta di taglio ammonta circa 22 milioni di euro E a questo proposito abbiamo interpellato Rita Turati, segretario generale dello SPI CGL del Veneto Sentiamola Già il fatto che avevamo denunciato guardando i dati del bilancio di cui stanno discutendo proprio in questi giorni Che c'era un taglio secco al fondo per un'autosufficienza di circa 14 milioni di euro Ma non è solo quello, perché se si ripristina va benissimo Ma c'era un'altra incognita nelle pieghe di bilancio E cioè il fatto che erano in ballo dai 61 ai 76 milioni Questo dalle cronache dei giornali Dei cosiddetti Estralea Perché tutti gli assegni di cura Adesso la stringo per farmi capire Venivano definiti con una delibera dell'anno scorso fatta dalla Giunta Come Estralea Cioè non prestazioni sociosanitarie o sociali Ma prestazioni sanitarie E quindi che dovevano essere pagate attraverso il Fondo Sanitario Nazionale In ballo c'erano circa 61 milioni che non erano più accreditati presso il Fondo Per la non autosufficienza regionale Che come ricordavo prima c'è questo taglio evidente nella presentazione della Giunta di 14 milioni Ma c'erano anche questi 61 che non apparivano E quindi gli effetti del taglio Ricadranno ancora una volta sui cittadini più deboli A partire dall'aumento delle rette delle case di riposo Fino all'introduzione di sempre maggiori costi Per l'assistenza ai disabili Lo Spicigelle del Veneto chiederà ufficialmente Che il Consiglio regionale intervenga Con dei correttivi a questa manovra Per scongiurare che il capitolo dei servizi sociali Venga ulteriormente ridotto Assicurando almeno la stessa cifra stanziata per il 2013 E cambiamo notizia Parliamo di appuntamenti Appuntamenti che ci sono per i congressi provinciali Ma anche per il congresso regionale Perché il sindacato pensionato della CGL È in piena fase congressuale Allora abbiamo i congressi provinciali Di Padova il 3 e 4 marzo Di Rovigo il 5 marzo Venezia e Verona il 6 e il 7 marzo Belluno Treviso Vicenza il 7 marzo Il dodicesimo congresso spi regionale del Veneto 20 e 21 marzo a Mogliano Veneto Dopo 550 assemblee territoriali Che hanno registrato il voto di oltre 20 mila partecipanti Tra il 3 e il 7 marzo Si svolgeranno le assemblee provinciali Per il dodicesimo congresso veneto Del sindacato pensionati SPCGL In calendario il 3 e 4 marzo L'assemblea di Padova il 5 a Rovigo I delegati di Venezia e Verona Si riuniranno appunto il 6 e 7 marzo Mentre Belluno Treviso Vicenza Ricordiamolo chiuderanno questa sessione congressuale Il 7 marzo I congressi provinciali Eleggeranno quindi i segretari Indicheranno i delegati All'assise regionale del 20 e 21 marzo In occasione dei congressi provinciali Arriverà in Veneto Anche il segretario generale Dello SPIN nazionale Carla Cantone Che parteciperà al congresso di Belluno E sabato 8 marzo A Belluno All'inaugurazione della nuova sede provinciale Del sindacato pensionati E ora ricordatevi Continuate a seguire Gli appuntamenti dello SPI Veneto In questa frequenza Ma anche in rete Al sito www.spi.veneto.it E naturalmente su Facebook Per informazioni Assistenza fiscale Assistenza anche previdenziale Ricordatevi il numero telefonico 340 83 23 190 Noi ci ritroviamo presto Grazie